cari amici bentornati io sono francesco andriani e questo è lo spazio riservato alle recensioni formali di pop culture oggi io lo scrondo ci uniremo all'esercito di recensori divulgatori che si occupano di commentare le storie di due personaggi bonelli che nel corso dei decenni sono diventati delle vere e proprie icone dell'avventura classica oggi infatti analizzeremo il numero 39 della collana dedicata a aquila della notte il giovane tex wheeler un albo sceneggiato da giorgio giusfredi e illustrato da fabio valdambrini 66 pagine bianco e nero per 3 euro e 50 bei tempi quelli in cui con 3 euro e 50 comprami un albo da 96 pagine ti rimaneva anche il resto per le caramelle signori miei rassegniamoci il fumetto si sta trasformando in un fenomeno elitario ovviamente questo non è un problema che riguarda solo a bonelli ma tutte le case editrici che coraggiosamente tengono in vita il mercato del fumetto in italia prima di partire con la recensione vi invito a seguire le nostre live ogni mercoledì alle 21 e 30 io luigi minonne e gianluca rkc carboni intervistiamo tanti illustri ospiti appartenenti al mondo del fumetto il tutto in diretta su questo canale youtube e in contemporanea sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale twitch se ne avete voglia potete recuperare tutte le interviste precedenti nella playlist le live di pop culture presente su questo canale o nella sezione video della nostra pagina facebook pop culture e tutte le anime della cultura pop e ora partiamo con la recensione per me tex rappresenta un vero e proprio mistero chi mi conosce bene sa che non sono un amante di di questo personaggio come non lo sono di zagor lo ammetto spudoratamente nella mia lunghissima carriera di lettore credo di aver letto poche storie di aquila della notte senza mai giungere al termine di nessuna di esse conservo gelosamente solo il volume di tex la valle del terrore illustrato da magnus e sceneggiato da claudio nizzi e anche in questo caso sebbene le tavole fossero delle vere opere d'arte mi sono dovuto sforzare per giungere al termine della storia quindi sono colpevole vostro onore colpevole di non nutrire una passione nei confronti dell'avventura classica perché allora siamo qui a parlare di tex perché è un fenomeno che mi incuriosisce soprattutto per la sua capacità di essere un mito multigenerazionale per l'energia vitale che gli ha consentito di creare nuove generazioni di lettori cosa che non è accaduta a personaggi più recenti dell'universo fumettistico ponegliano personaggi aggiungerei che vedono le vendite dei propri albi in costante declino e allora pur essendo consapevole che fra le mani non ho la storia delle storie di tex una buona storia ma non la migliore in assoluto quella che consigliereste ad un amico che si cimenta per la prima volta nella lettura di un fumetto come questo io partirò proprio dal numero 39 è il can greco credo che si pronunci così per comprendere a fondo i segreti del successo di tex nel corso dei decenni ovviamente ne parlerò come chi ignora totalmente ciò che è accaduto in anni e anni di storie e vuole farsi conquistare da una lettura come questa mettendomi nei panni di un giovane lettore che affronta per la prima volta un albo come questo libero da pregiudizi a chi non avesse mai visto questo albo in edicola e non sa di che cosa sto parlando dico che questa non è ovviamente la serie classica di tex giunta ormai al numero 736 un albo in un classico formato bonelli ma che a differenza della serie regolare ha un numero ridotto di pagine 66 altra differenza sostanziale che ha quelle altre testate bonelli e che questa nuova serie procede per minicicli composti da tre o più albi per questo diventa fondamentale il breve riassunto che troviamo in seconda di copertina molto utile per chi come me decide di salire a bordo a metà del tragetto prima di immergerci nel racconto troviamo un editoriale scritto dal curatore della serie mauro boselli intitolato storie vere e tall stories nel quale rispondendo luca barbieri boselli sempre attento alla veridicità storica dei suoi racconti ci fa comprendere la differenza tra le storie vere tramandate nei corsi di secoli e le tall stories leggende spacconate tipiche del folklore americano come si capisce chiaramente dalla copertina di maurizio dotti il giovane tex si ritrova imprigionato nel pozzo ovvero una cella nel sottosuolo capiremo come è finito lì dentro in quella prigione alla papillon leggendo il numero 39 tex wheeler e can greco la trama di quest'albo si muove su due linee narrative e si ricongiungeranno al termine di questa storia la prima vedetex a causa del suo buon cuore imprigionato insieme a ac un suo amico d'infanzia in una fortezza una sorta di carcere di massima sicurezza dell'epoca chiamato e l'inferno la fortezza è gestita da un personaggio senza scrupoli santa cruz l'ospitato direttore del carcere dal torbido passato organizza tornei di lotta all'ultimo sangue fra i detenuti promettendo loro in premio la libertà la seconda linea narrativa vede i ranger capitanati da kit carson dare la caccia all'inafferrabile ex sodale di santa cruz chiamato el can greco il granchio a causa di una tremenda menomazione l'amputazione di alcune dita delle sue mani le rende simili alle chelle di un granchio ciò non gli ha impedito di diventare uno dei più veloci e mortali pistoleri in circolazione tex dopo aver combattuto e vinto il sanguinoso torneo carcerario riacquista la sua libertà e stringe un patto con l'ineffabile santa cruz dovrà uccidere el can greco solo così il suo amico acce potrà essere scarcerato sano e salvo giorgio giusfredi realizza una trama che si muove nei territori classici del genere western scrivendo una storia piacevolmente coinvolgente l'inserimento di alcuni flashback e il doppio sviluppo narrativo rendono il racconto molto dinamico e mai noioso il tutto condito alla perfezione dalle tavole di fabio valdambrini che con il suo stile volutamente vintage riesce a rendere alla perfezione le atmosfere old west sul sorco della tradizione texiana questo è quanto posso dirvi su tex wheeler non mi sbilancerò di più per ora su una serie di cui ho letto un singolo albo troppo poco per emettere dei giudizi che abbiano un senso prendete questo come un video divulgativo destinato a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo granitico storico personaggio bonelliano bene credo di aver detto tutto vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale pop culture tutte le anime della cultura pop o a venire a trovarci sulla nostra pagina facebook dove nella sezione video potrete recuperare le nostre interviste e assistere a partecipare alle nostre live ogni mercoledì alle 21 e 30 sulla pagina facebook ma anche su questo canale youtube vi lascio il link in descrizione io lo scrondo eccolo qua vi salutiamo e vediamo appuntamento ad un prossimo video ciao